La nostra preoccupazione oggi era stata questa, di metterla vicino al Danilo Restivo, poi parlare di Tironi come se fosse appunto il Restivo di Brembate. Non vogliamo assolutamente fare questa operazione, però vogliamo cercare, come sempre, di chi l'ha visto, di saperne di più. Allora, questo è un estratto della migliorazione che ha fatto Gianni Capriani, che ha detto, pensiamo che cosa aveva detto prima, cioè quando aveva detto che aveva visto Iara con due uomini che stavano con lei prima della scomparsa. Tu hai visto appuntalmente l'imprevenire da qua, vero? Perché tu sei stato una baccata, vero? Sì, io, lei stava guardando qua, stava guardando qua, non ve l'ho visto, non lo conosco subito. È un po' la ticinomia di questi...